Una giornata davvero bella a Taranto, ci troviamo presso i giardinetti, l'affaccio al mare di via Garibaldi per una iniziativa certamente encomiabile, infatti l'insieme di associazioni denominata Rete a Raccolta sta realizzando un'opera di pulizia e di bonifica in questa area. È certamente un qualcosa di molto significativo, di partecipazione attiva dei semplici cittadini che però hanno evidentemente dei valori di amore verso la città e abbiamo uno dei volontari Emanuele Battista di Isola Pulita Taranto. Illustriamo questa iniziativa. È un'iniziativa che deve principalmente sensibilizzare, sensibilizzare da tutti e due i fronti, cioè sia il cittadino e sia anche l'amministrazione, proprio per far riscoprire determinati luoghi, dire che questi luoghi puliti sono dei luoghi che hanno un'importanza storica rilevante. Quindi noi partiamo come Isola Pulita proprio nella sensibilizzazione dei bambini, ci vuole proprio entrare nella testa dei più piccoli e quindi cercare in qualche modo di far amare il proprio territorio con la semplice pulizia e il semplice decoro. Noi prendiamo anche materiale di riciclo, risulta, pedane e quant'altro, creiamo panchine, fioriere e mettiamo dove prima c'era spazzatura, delle fioriere e delle panchine. Voi non volete certamente sostituire, ci mancherebbe, gli operatori di Chima Ambiente Amio, ma è un'iniziativa che vuole supportare le attività dell'azienda, basandosi appunto sul volontariato. Esattamente, non dobbiamo confondere per nessuna ragione proprio l'attività degli operatori ecologici con l'attività dei volontari, perché i volontari mirano a sensibilizzare gli abitanti ma anche, ripeto, chi ci amministra, cioè scoprire, io lo chiamo l'oro sporco, cioè noi stiamo qui su un oro che è sporco, lo dobbiamo semplicemente pulire anche perché è un'economia, è un'economia alternativa che dobbiamo cercare di far scoprire a chi viene da fuori, insomma.